Ciao ragazzi, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a ritornare, se così si può dire, a parlare di Ritz, dopo la live di Ritz alle orecchie, la prima puntata della mia nuova serie riguardante Ritz, in cui andiamo a approfondire tante cose. Abbiamo fatto una presentazione di 5 Ritz nel mercato inglese e poi ho lanciato un sondaggio per capire quale dei 5 Ritz voleste che io andassi a inserire in un portafoglio di tipo demo che porteremo avanti con almeno 15 posizioni, fra le 10 e le 15 posizioni, nei vari Ritz di tutto il mondo che andremo a scegliere in questa serie. Per cui sono stati scelti due Ritz di cui andremo a parlare a breve, li andiamo ad approfondire un po' di più e poi ti vado anche a dire qual è quello che ho inserito io personalmente nel mio portafoglio reale. Ovviamente si tratta di non consigli finanziari, per cui non si tratta di consigli finanziari, ma semplicemente il portafoglio demo è qualcosa che faremo insieme appunto per vedere se queste scelte nel lungo periodo possono andare a pagare e nel mio portafoglio privato io ho fatto le mie scelte in base a dei miei studi per cui qualunque investimento tu vada a fare, per favore fai i tuoi approfondimenti. Bene, andiamo al computer, andiamo subito a vedere di cosa stiamo parlando. Bene, 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 eccoci qua, andiamo a vedere quali Ritz abbiamo scelto. Qui abbiamo Unite Students Group, ticker UTG, e Primary Health Properties, PHP, che sono appunto i due Ritz che sono stati scelti. Tra l'altro quello relativo agli studenti, Unite Students Group, ha avuto una buona percentuale di votazioni. Non mi sarei mai aspettato che questo Ritz andasse in testa alle classifiche di tutte quante le canzoni del mondo, anche perché non è una canzone, però effettivamente ho inserito, come si può vedere qui, i primi 2.000 euro a Primary Health Properties e a United Students Group. E non li ho inseriti in un aerogramma, come si fa di solito con Train 212, perché alcuni di questi Ritz, essendo piccoli, potrebbero non essere frazionabili. Però siccome questo portafoglio sarà solo gestito da questo punto di vista, per cui solo con i Ritz che andiamo a scegliere in questa trasmissione, non c'è motivo per indurli o introdurli in un aerogramma, perché ovviamente saranno presenti sempre e solo loro in questo portafoglio demo di Train 212. Poi nel futuro ci saranno altre novità per portafogli di trading, ma non voglio anticipare troppo, insomma faremo altro insieme. O per meglio dire farò altro, cercherò di imparare altro e per cui vorrei portare avanti anche altre esperienze facendolo vedere a voi. Bene, eccoci qui sul sito ufficiale di Primary Health Properties. Andiamo a capire un attimino approfondendo quello di cui si occupa l'azienda, per quale motivo abbiamo scelto questa azienda da mettere nel nostro portafoglio e quali sono le prospettive di crescita che ci aspettiamo dall'azienda. Prima di tutto andiamo a vedere il portafoglio che l'azienda ha. Si tratta di 510 proprietà, un portafoglio che comprende delle case famiglia o comunque delle strutture che si prendono cura di persone che hanno scarsa mobilità o che hanno impossibilità nel muoversi e nell'agire nelle proprie facoltà in maniera ottimale. 510 proprietà che sono sparse per tutto il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, che sono di media e piccola grandezza. Si tratta anche di aziende che non solo fanno attività di assistenza, ma anche di studi medici associati o comunque di strutture che vanno a fornire del tipo di assistenza che non è di primaria emergenza, per cui delle strutture in cui le persone vanno e ci stanno per un determinato periodo di tempo che si è messo medio e lungo, ma non in ambito di emergenza. Sono 510 proprietà, per cui un'ottima diversificazione. Ovviamente come per l'altra azienda, o comunque tutte le 5 che abbiamo visto durante la live, l'unica problematica di queste aziende è che sono ibernate e limitate a quello che è il solo comparto del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. Per cui si tratta comunque di una popolazione piuttosto ampia, perché supera, se non sbaglio, i 75-80 milioni di persone, però comunque è limitato, non è diversificato in termini di valuta, per cui in termini valutari, e neanche in termini di diversificazione geografica. Però ovviamente l'assistenza medica sanitaria è una di quelle cose che è essenziale per tutti, a qualunque livello, per cui non mi farei problemi di questo tipo quando si va a studiare un'azienda in questo settore. Più che altro bisogna studiare se l'azienda è stabile, se l'azienda ha degli ottimi conti economici, se l'azienda ha delle prospettive di crescita, delle prospettive anche di crescita degli earnings, ma anche del fatturato. Per cui qui ci vengono anche portati alla conoscenza di tutte quelle che sono le varie strutture, le 500 di strutture, e che non andiamo a vedere tutte perché sono tantissime. Se andiamo nella sezione di Investor Relations, possiamo andare a vedere anche i risultati che l'azienda ha ottenuto nel tempo, vedendo il loro report annuale. In questo report andiamo a vedere un attimino quali sono i risultati a internet per il 2020, ovviamente questo report è stato creato prima che l'anno venisse chiuso. Quindi ci sono 510 proprietà, con un valore di portafoglio di 2 miliardi e mezzo. L'azienda fa parte di Fuzzi 250, UK Real Estate Investment Trust, e con circa 2 miliardi di market capitalization, per cui di market cap. Il 90% dei propri profitti avviene da government bodies, per cui aziende di tipo statale o parastatale, come i vari dottori, i medici di base, il GP sta per General Practitioner, che sono i medici di base, l'NCS che sarebbe la ASL inglese, e le CSI che non sono assolutamente di chi sia sia. Ogni contratto è di circa 12 anni e mezzo. L'azienda ha 24 anni di consecutive dividend growth, per cui per 24 anni di fila il proprio dividendo è stato aumentato nel tempo, questo significa anche che l'azienda pone particolare attenzione non solo al capital gain, ma anche all'aumento del dividendo per i propri azionisti, che è completamente coperto da quelli che sono gli earnings, per cui già qui troviamo una risposta a quelli che potevano essere i nostri dubbi. L'azienda ha delle prospettive di pagare il dividendo sempre, o comunque ci sono delle difficoltà? Questa domanda qui viene risposta. E qui comunque ci viene ancora detto che si è stata creata una sinergia come DX, che è un'altra azienda, che va a creare appunto una significativa crescita per quello che è il valore sinergetico delle sinergie per gli investitori. Altre notizie che possiamo trovare in questo report, 100 milioni sono stati investiti per la creazione di altre 23 strutture nel 2019, e 6 sono altre che sono andate a essere aumentate in termini di investimenti, per un portafoglio di 12 asset management di 107 milioni di pound. Nel quarto quarto del 2019, nel primo quarto del 2020, c'è stata un'ulteriore crescita di 22 strutture per il proprio portafoglio, con 54 milioni di pound di asset aggiunti. Poi ci sono state anche delle aggiunte non solo nel Regno Unito ma in Irlanda, come si può vedere qui da questa specifica. È stato creato un centro in Alclo, una zona che sta qui in Irlanda, e Banagar. Per cui altri circa 23 milioni di idee euro che sono stati investiti non più nel Regno Unito, ma in Irlanda del Sud, qui dove vivo io. Per cui un'azienda che sta cercando anche di espandersi al di fuori del Regno Unito e di Gran Bretagna, ci sono anche dei progetti che sono stati approvati. In Etty, Bray e Rialto, che sono altre tre zone dell'Irlanda. Bray non è molto distante da Dubbino, si trova in County Wicklow, vicino alle montagne, come le chiamano loro, mille metri, vabbè, comunque sono montagne. Al momento i rental, per cui gli affitti vengono pagati al 96%, e questa percentuale nel secondo quarto del 2020 ha superato il 99%, sia nel Regno Unito che in Irlanda. Per cui c'è una robusta crescita dal punto di vista del pagamento degli affitti. Questo significa che il cash flow continua a entrare nell'azienda e per questo motivo l'azienda ha un po' più di sicurezza nel pagare i propri dividendi, ma anche di ritenere dei earnings e per cui di avere più cash flow al proprio interno. Qui possiamo trovare anche dei key financial light. Il net rental income è passato dai 53,8 milioni di pound del giugno del 2019 ai 64,8 del giugno del 2020, per cui una crescita di quasi 11 milioni di pound, ah no, proprio di 11 milioni di pound, un aumento del 20% di net income. Da parte dell'azienda in un anno, un'azienda di questo tipo molto piccola, comunque un ottimo risultato. Qui possiamo trovare anche un prospetto delle key figures, per cui 510 proprietà, 17 sono nell'Irlanda del sud, dovevo io appunto, un portafoglio del valore di 2,51 miliardi di pound, un'area coperta di 674 square meters, con un capitale per square meter di 3.725 pound, mica male, con un'compensi, per cui con il fatto che ci siano delle strutture affittate del 99,5%, per cui 99,5% delle strutture che sono state costruite sono piene, sono utilizzate, e con un government background del 90%. Qui abbiamo anche una schematica che ci fa capire anche le singole proprietà, quante valgono. Al di sotto di 10 milioni di pound abbiamo 48 proprietà, tra i 5 e i 10 milioni di pound 108 proprietà, tra i 3 e i 5 milioni 161 proprietà, tra i 1 e i 3 milioni 186 proprietà, per cui c'è una forchetta molto ampia che va dal milione ai 10 milioni di pound, con una copertura che praticamente va quasi a 420 proprietà in totale, del totale delle proprietà, appunto, delle 510 proprietà che sono appunto nel portafoglio di questa azienda. Troviamo anche una pipeline development, per cui di costruzioni che sono andate a essere finanziate e saranno costruite, per cui l'azienda sta puntando a costruire nuove strutture da poter affittare, sia in Irlanda, come si può vedere qui, ne abbiamo parlato prima, Darklow, Offlay, anche in Galax, in Essex, per cui nella zona di Londra. Comunque, gli investimenti, tutto quello che, diciamo, le prospettive future di costruzione di nuove impianti, è molto ampia. Qui troviamo un prospetto, di nuovo, che va a riassumere quello che è l'azienda, 12 anni e mezzo, diciamo, e l'affitto medio, 99.5% è l'occupancy delle proprietà, con un 90% di tenant covenant, che pagano direttamente o indirettamente, sia per quanto riguarda, come dicevamo prima, GP, government body, ma anche i privati, e per cui, e qui abbiamo anche uno split di quelli che sono gli anni di affitto, qui abbiamo la media da 12 anni e mezzo, diciamo che il 31.8% è fra i 10 e i 15 anni, poi abbiamo un 30% fra i 5 e i 10, abbiamo anche un 12,5% che è oltre i 20 anni di affitto, e così via, per cui si tratta di un'azienda che ha un'ottima diversificazione anche dal punto di vista degli affitti. Adesso passiamo a United Students Group, e qui, come dicevamo prima, quello che l'azienda fa, va a costruire delle case dello studente, così si può dire, per conto di collaborazioni che si hanno con le università, o comunque di strutture che vanno poi a essere affittate all'università, anche se non in accordo perenne. Andiamo un attimino a vedere quali sono le proprietà, e questo l'avevamo visto anche durante la live, i latest development, diciamo che in pipeline, entro il 2023, l'azienda vuole creare 5.000 nuovi posti letto nel Regno Unito, entro la fine del 2020, sono stati creati queste tre nuove strutture, la prima a Leeds, la seconda a Manchester e la terza a Londra, con 976 posti letto la prima, 603 la seconda e 678 la terza. Mellì settembre del 2022, per cui fra due anni, un'altra struttura a Nottingham con 620 posti letto, un'altra a Bristol con 370, e un'altra a Londra, 920 posti letto, e l'ultima nel 2023, sempre a Londra, con 281 posti letto. Per quanto riguarda gli investimenti, andiamo a vedere un attimino quello che è il report dell'azienda, così come abbiamo fatto per PHP. È bella questa cosa perché si muove tutte. Allora, 12% di total accounting return, profit loss di 100.1 milioni di pound, 33.2 pence, per cui non sono pound, sono 33 centesimi dividend per share, per cui ogni azione che si possiede, si ricevono circa 33 centesimi di pound di dividendo, un customer satisfaction level dell'85% e un net value di 853 pence per share. Sono 2.390 i posti letto attualmente che l'azienda possiede, con 74.000 studenti che utilizzano appunto questi posti letto. La diversificazione in termini territoriali, come vediamo ovviamente la parte più ricca, quella di Londra, ma anche quella di Manchester, Liverpool e Leeds, sono quelle un po' più diversificate, e qui troviamo anche i posti letto. 10.920 a Londra, 6.498 a Birmingham, 6.969 a Liverpool, 5.000 a Manchester, diciamo anzi è stato bello vivere lì, comunque diciamo l'azienda diversifica moltissimo nelle aree universitari per cercare appunto di creare più posti letto, cosa che in questo momento potrebbe essere sopraffatta dalla didattica a distanza, ma che nel futuro potrebbe rientrare appunto in dei livelli che sono molto accettabili, anche perché come si può vedere dagli investimenti che l'azienda sta portando avanti, sta cercando di creare nuovi posti letto. Per quanto riguarda i livelli open dei nuovi posti letto, come abbiamo detto prima, ci sono 5.191 posti letto in fase di costruzione. Come dicevamo anche nella live, questa azienda è leader nel settore, nel mercato appunto del Regno Unito per quanto riguarda il student accommodation, e per quanto riguarda gli affitti sono sei anni, quello che è la media del contratto di affitto, con un 4% di aumento dell'affitto in ambito universitario di anno in anno, che è applicato appunto a tariffe universitarie. un più 206% di ritorno per i shareholder nei 5 anni, questo l'avevamo detto anche in live, per cui è un ottimo ritorno in 5 anni, quasi si può dire a livello di una tech company. Anche qui viene ripetuto che 5.191 posti letto andranno a essere creati entro il 2023. Qui poi troviamo anche uno statement per quanto riguarda il 2020 da parte dell'azienda, e possiamo andare a vedere un attimino quello che è successo fra il 2019 e il 2020. Allora, dividend per share che non è stato dato nel 2020, proprio per la crisi pandemica, per cui il dividendo è stato sospeso nel 2020, cosa che io apprezzo perché ovviamente l'azienda cerca di tenere del denaro che può essere poi utilizzato per gli investimenti futuri, per cui per aumentare la crescita futura dell'azienda. Earnings 64.8 miliardi e milioni di pound rispetto ai 61.2 del 2019. E poi qui si viene anche fatto un po' un'analisi più approfondita del 2020, quindi c'è stata una perdita per quanto riguarda il grossi income before tax di 73.9 milioni di pound, questo è stato impattato appunto dalla didattica a distanza, gli studenti non erano più nelle case dello studente a pagare gli affitti, e quindi l'azienda ha avuto un anno piuttosto difficile. Però come si diceva anche all'inizio, l'azienda sta assicurando di creare nuovi posti letto per generare un 6.6% di yield on cost, proprio per creare appunto quella diversificazione futura che possa fare in modo che l'azienda si trovi di nuovo a essere realizzata in mercato, nel momento in cui la didattica a distanza sarà quasi completamente eliminata, proprio perché gli studenti ritorneranno in università a seguire le lezioni, ovviamente perché speriamo i tre vaccini, i quattro vaccini che sono arrivati adesso sul mercato possano andare a calmerare la crisi pandemica. Ci viene rimarcato che ci sono quasi 77.000 posti letto operazionali dell'Academic Year, per cui nell'anno accademico del 2020-2021, con un valore di 7.8 miliardi di pound, è che l'88% di queste proprietà è locato appunto nelle zone di high e mid-ranked university, per cui si tratta di università ad alto potenziale o medio potenziale di importanza in termini di studenti, per cui si tratta di università in cui la retta magari è più cara, per cui gli studenti si prevedono di avere un accommodation che sia di una certa qualità. In questa parte del report viene anche diciamo menzionato il fatto che pur avendo avuto appunto questo calo relativo al covid, ci si trova in una situazione in cui gli studenti avranno comunque bisogno in futuro di un'accommodation di alta qualità e loro si stanno portando avanti con degli investimenti per portare appunto nell'anno accademico che andrà a avvenire dell'accommodation di qualità. Questo comunque porterà anche a un'ulteriore richiesta di costruzioni nuove, proprio per questo motivo. Ovviamente loro non si aspettano che il business riprenda in maniera improvvisa, perché ovviamente nell'immediato molti studenti potrebbero preferire di studiare a distanza proprio per evitare contatti diciamo con altre persone e con l'esterno e per cui di evitare la possibilità di poter contrarre il covid. Qui andiamo anche a vedere quanto è stato guadagnato la differenza tra il 2019 e il 2020, 108 milioni di pound nel 2019, quasi 155 nel 2020, con un net operation income che passa da 84.4 milioni di pound a 117 milioni di pound, un EPS che passa da 23 al 20, proprio perché abbiamo parlato prima che i costi sono aumentati perché le costruzioni nuove ci sono state, ma ovviamente chi pagava l'affitto erano molte meno persone rispetto a prima. Per l'anno accademico 2019-2020 c'è stata una riduzione dell'incomodo del 15% rispetto all'anno precedente, ma per il 2020-2021, per cui quell'anno che si sta approcciando, le reservation per cui sarebbero i booking, se così si può dire, sono stati 84% sotto il 2019. Per cui questo riflette quello che dicevamo prima, che ci potrebbe essere un ritardo da parte degli studenti di voler rientrare nelle case dello studente e andare a studiare a distanza. Questo ovviamente può mettere un po' a rischio il cash flow da parte dell'azienda, però da un altro punto di vista si può pensare che si può prendere l'azienda a un valore value piuttosto basso rispetto a quello che il mercato dovrebbe valutare. Ma invece qual è quello che ho inserito io personalmente nel mio portafoglio personale, in quello reale? Beh, ero indeciso fra le altre tre in realtà, questi due che sono stati scelti per il portafoglio demo, non erano tanto nelle mie corde ed ero indeciso fra le altre tre. Alla fine sono andato a optare per una delle due mediche, per cui non è PHP ma THRL, Target Healthcare REIT, che era l'altro REIT in termini di costruzioni mediche, diciamo così, che era nell'ambito dell'healthcare, che era appunto in quella puntata e che abbiamo analizzato in quella puntata. Ho fatto queste scelte per vari motivi, questo prezzo più che altro è un prezzo stabile negli anni e da un dividendo molto alto, per cui da questa azione non mi aspetto un capital gain, per cui nel mio portafoglio personale questo titolo avrà semplicemente, diciamo, la funzione di aumentare il cash flow. Nel momento in cui l'ho comprato il dividendo è al 5.6% e magari se resta stabile a questo livello potrò comprare molte più azioni. Al momento ho comprato 100 azioni, sono ricco a 100 azioni da 1,27€ ciascuno, per cui non è che abbia, diciamo, venduto mia moglie al mercato nero, però ovviamente è una posizione che è andata a aumentare col resto del portafoglio dei REITs, che ovviamente in questo modo è andato a rimpolparsi di altre posizioni, per cui oltre a, adesso lo andiamo a vedere, oltre a questa posizione di Target Healthcare REITs, c'è anche quella di Super, Super Marketing com REIT, che sono entrambe fuori dall'aerogramma, ma ho aggiunto altre posizioni nel portafoglio REIT, che andiamo a vedere in un prossimo video. Questo è semplicemente un video, diciamo, esplicativo per andare a capire un attimino come funzionerà la piattaforma in ambito demo, perché volevo un attimino approfondire e fare un feedback di quello che è stata la live riguardo alla scelta dei 5 REITs migliori. La seconda puntata live, invece, di cosa andrà a parlare? Andiamo a prendere 5 REITs, ma in questo caso siamo sempre in Europa, sì, rimariamo sempre in Europa, e andiamo in Germania, andiamo a prendere 5 REITs tedeschi e andiamo a vedere quali di questi possono essere i due che andranno a fare parte della selezione finale di quel portafoglio demo che stiamo creando insieme, insieme a voi, appunto, in Trend212. Ovviamente questo esperimento è una cosa che mi piace molto, perché posso arrivare, diciamo, a interagire con voi senza darvi consigli finanziari, che poi un po' è la mia paura, non voglio passare per la persona che cerca di dare consigli di investimento perché non ne sono in grado, ovviamente sto qui a imparare come vuoi, però riuscire a fare delle prove in demo con delle aziende che in realtà esistono veramente è un motivo, anche un modo, per riuscire a imparare un po' meglio su come gestire alcune situazioni, come gestire alcuni investimenti, come selezionare le proprie aziende, per cui in questo modo anche io imparo molto di più sul mondo delizio, che è un mondo in cui mi voglio specializzare, e anche voi, appunto, guardando me, guardando quello che faccio io nell'ambito di questa serie, che spero durerà almeno fino a metà anno, e poi se vi piace possiamo portare avanti con video più specifici, beh, possiamo imparare insieme qualcosa in più. Spero vivamente che questa serie di Rizza le orecchie sia, il nome fa sempre ridere anche a me, che possa essere di tuo gradimento, che insomma possa darti delle cose nuove, qualcosa da imparare in questo ambito, che secondo me, come ho detto anche nella live, è un settore molto sottovalutato. I Rizza, secondo me, sono un asset class che va tenuta molto bene in considerazione, perché possono dare delle ottime soddisfazioni, e io, nel futuro, fra 20 anni, voglio ottenere un ottimo cash flow da questo asset class. Ovviamente se sei nuovo su questo canale, ti chiedo di cliccare la campanella di notifiche e di iscriverti al canale per non perderti nessun video successivo, ma ovviamente, se invece sei già sul canale e stai guardando questi contenuti su Rizza, mi raccomando, lascia un bel pollice in su, il prossimo video invece, in cui andiamo a approfondire, sarà alcune azioni che ho inserito nel mio portafoglio, ma che non ho fatto vedere, e ne ho inserite più di una, ne ho inserite cinque, e andiamo prima a vedere i Ritz che ho inserito, perché oltre a questo, oltre a Target, ho inserito altri due Ritz, molto interessanti, molto succosi dal punto di vista dei dividendi. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!